Putiferio a Cellino. Romina Power presenta il nuovo fidanzato ma Albano reagisce malissimo. Cosa ha fatto? Una scenata assurda. Romina Power si è mostrata felice e sorridente in compagnia di un uomo che non è Albano Carrisi. Capita raramente che la bella americana utilizzi le sue pagine Instagram per mostrarsi in compagnia. Di solito, le uniche persone che compaiono sui suoi post sono i figli. Oppure proprio l'ex marito. La cantante non manca mai di condividere ricordi o momenti passati insieme. Dando adito così ai pettegolezzi riguardo un triangolo amoroso venuto a crearsi tra lei, lui, e Loredana Lecciso. Le due donne, in effetti, non riescono proprio ad andare d'accordo. Pur condividendo la tenuta di Cellino San Marco. Romina Power in ogni intervista ricorda l'amore per Albano e la convinzione di essere ricambiata. Da quando ha fatto rientro in Italia non ha nascosto le sue intenzioni. Attirando su di sé l'ira dell'Alecciso. Secarrisi, in un primo momento, tentava di rimanere con due piedi in una scarpa. Adesso ha finalmente preso una decisione e si è schierato dalla parte della sua attuale compagna. E con lei che ha intenzionato a trascorrere la vecchiaia. Mentre la ex moglie ormai è storia vecchia. Al massimo un'amica. Le continue dimostrazioni di Carrisi nei confronti di Loredana hanno finalmente convinto una fetta del pubblico.